Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Sulla A12 prestare attenzione per un incidente avvenuto tra Massa e Versilia in direzione di Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori di pavimentazione è chiuso lo svincolo di Taverne d'Arbia in ingresso e in uscita in direzione Bettolle. Sulla Statale 2 Cassia fino al 9 aprile per lavori è chiuso lo svincolo di Montalcino in ingresso e uscita in direzione Siena. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!